Sarà attivo dal prossimo gennaio l'osservatorio regionale contro la violenza sulle donne e a presiederlo sarà un'irpina. Rosaria Bruno, originaria di Grotta Minarda, dirigente medico di emergenza con specifica formazione in medicina di genere. Le cariche sono uno strumento di lavoro, ha commentato la Bruno, e il lavoro dobbiamo farlo tutti insieme, istituzioni e società, senza lottizzazioni di competenze e rigidità di posizioni, ma facendo rete, senza buchi. Le altre quattro componenti sono Maria Argenzo, di Arzano, tra le fondatrici dell'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro Donne Insieme, Gaetana Castellaccio, di Mugnano di Napoli, della cooperativa sociale Dedalus, Le casertane Clementina Iagnello, madre della giovane Veronica Abate, vittima di violenza a Mondragone, in memoria della quale è attiva dal 2008 un'associazione battezzata Veri, e Marianna Pignata, docente presso la Seconda Università di Napoli e delegata del Rettore alle pari opportunità. Ieri ho costituito l'osservatorio contro la violenza, la cui presidente, tra l'altro, è la dottoressa Rosaria Bruno, una donna di questo territorio, un medico che si è specializzato, che dovrà monitorare tutto ciò che avviene nella nostra regione, però dobbiamo lavorare per finanziare più centri rifugio, perché spesso le donne non venugiano perché non sanno dove andare, e perché insieme con l'assessore al lavoro, io gliel'ho chiesto, troviamo un po' di risorse per prendere in carico le donne che non sono autonome economicamente, perché spesso sono costrette a ritornare in famiglia, perché non hanno un'autonomia e in famiglia si verificano i più grandi casi di violenza, di omicidi e di assassini. Compito dell'osservatorio sarà quello di promuovere la prevenzione, accogliere segnalazioni e vigilare sull'assistenza prestata alle donne, promuovere la collaborazione con gli enti locali. Alla Presidente e alle altre componenti spetta un ruolo di fondamentale importanza per costruire una valida rete a livello regionale. Alla Bruno i complimenti di un'altra donna in prima linea, il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole. Mi fa piacere anche dalla vostra, attraverso di voi, fare gli auguri a Rosanna Bruno, che è stata così nominata presso l'osservatorio antiviolenza delle donne.